hello bell guys benvenuti in questo nuovo video finalmente è arrivata la legendary collection per il venticinquesimo anniversario di Yu-Gi-Oh! quindi andremo ad aprire non 1 non 2 non 3 non 4 non 5 non 6 va ben 12 cacchio di legendary collection il che oddio che ho premuto sul computer non lo so diciamo che è stato un errore comprarle poi vi spiegherò tutto il meglio ma intanto andrò ad aprire tutte mannaggia mi ci son voluti circa 10 minuti per fare tutto questo per mettere in ordine spacchettare tutto la vera impresa è stata questa direi di cominciare con i pacchettini questi qua con le promo e allora molti si sono lamentati altri no io voglio vederli un po dal vivo per giudicare e quindi andiamo a vedere assieme allora diamo l'uberisco il tiranno sliver, rha, blue eyes, dark magician, red eyes che a me piace un casino quest'art work qui e la prima è il drago lato tiranno ok effettivamente è figa la la carta ecco qua si vede il logo del venticinquesimo anniversario effettivamente è molto figa la rarità ok diciamo che anch'io un po mi lamenta degli artwork di lui no lui è bellissimo di loro due un pochettino si avrei preferito un po o quell'originale dell'anime ok qua ci sono spoilerati obelisco del tiranno quindi andrò abbastanza spedito anzi dato che sto approfittando per far vedere delle buste che appunto già conosciamo cioè conosciamo conoscete il contenuto racconto un po la storia di come è nato il fatto di comprare tutti sti pack allora all'inizio quando scusate per ordinare il pacco il case era da sembrava essere da 12 il case sembrava essere da 12 e quindi ordinato per quello dopo diciamo poco prima del rilascio della l'espansione della collector mi contatta il negozio dicendomi guarda come si chiama il case non è da da 12 ma è da 6 e io a quel punto potevo anche il dark magician potevo anche diciamo disdire però da parte mi sono scordato devo essere sincero con voi ero preso un po dal lavoro e tutto e volevo dire vabbè vada bene solo vada per un solo case alla fine mi sono ritrovato con questo case a 12 box e poi per farmelo mandare perché appunto non mi è arrivato il giorno dell'uscita un altro obelisk evo guardatemi slifer che devo fare almeno voglio sperare che li trovo tutti diversi sennò davvero mi devo comprare quelle singole tipo no o faccio scambio con qualcuno quindi me li sono fatti spedire anche giù a sud a causa del ritardo con il fornito oh eccolo qua slifer caro bellissimo me li sono fatti spedire giù a sud perché appunto io vivo a roma per lavoro però casa mia diciamo dai miei appunto giù a sud e quindi mi sono fatto spedire direttamente il pacco qui ed è per questo che appunto vedete anche questo playmat che è quello che utilizzo qui a sud per giochi chiare quindi questa è fatta all'introduzione l'altra cosa che sta a dirò più avanti magari l'altra cosa è che mi sono dimenticato ah ecco è che se un altro ora chi ci manca il red ice dai cioè il mio quello che cerco più di tutti non lo riesco a trovare e che cavolo no no ehi conami non mi fai giochetti Scusate ho il sfotto generale da metterrone raga sto panicando sto panicando il 12 box non trovo il red ice che poi il mio preferito il mio preferito fra le carte che devono uscire dude oh oh meno male infarto moment infarto moment allora se vige la regola che dicono che in ogni case ci stanno tutte allora teoricamente dovremmo trovare un altro red ice e un altro sliver quindi vediamo se effettivamente questa teoria si avveritiera un po' rispondiamo anche al nostro amico cappelloso ok l'altro sliver l'abbiamo trovato altro sliver l'abbiamo trovato che poi è figo che non ci sta nemmeno il logo qui dietro quindi invece è un casino ho fatto il dimensione di Cizzi pure qua no anzi ok 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 e qui ci dovrebbe stare il red ice se la teoria del case è vera o quantomeno mediamente è così quindi andiamo ad aprire andiamo ad aprire olè e infatti viene non è veritiera la teoria del case già sono stati fortunati ad avere il 2 per di tutto ma io devo essere sincero avrebbe avuto un bel 2 per o 3 per di questo e doppia divinità così vabbè allora ragazzoli adesso diciamo arriva la parte un po' più cicciotta quindi andremo ad aprire le varie espansioni e inizieremo la invasione del caos finendo a dividere per capitoli e vedremo cosa ne esce fuori allora per chi non è iscritto al canale quant'altro siete nuovi e quant'altro io sono un canale che si occupa di retroformat e appunto porto contenuti Edison e Tenguplant e vorrei passare anche a ok abbiamo il Distraction Ring ok vado un po' diretto con le foglie e mi do appunto di questi contenuti qui e soprattutto se siete interessati a questo tipo di contenuti a me farebbe piacere l'iscrizione perché non vi costa nulla e allo stesso tempo però supporto un sacco il mio il mio canale ma io non so se effettivamente piaccia che vada così lento o meno andiamo un po' più lento perché sto andando super spedito solo perché ne sono ne sono ne sono tanti perché da una parte cioè giustamente la gente diceva io voglio vedere i foil e dice pur io vi vorrei vedere pur io vi vorrei vedere i foil vabbè andiamo così oh il maggiore oh il caos sorcerer lascia la battaglia arrabbiata che il caos sorcerer è molto carino io già ah io già ma già stavano in questa espansione il torpedo fish allora piccola critica che voglio fare pure io a la nostra amica Konami è che allora adoro il fatto che appunto siamo stati ristampati dei pack vecchi però dov'è la mia critica è che come si chiama niente sono andato pure spedito ora ce l'ho proprio di di vizio che praticamente gli arto cioè gli arto la carta diciamo non conserva diciamo viene a dire il formato di quelle che erano vecchie infatti mi pare che l'immagine sia sia più grande non sono diciamo uno sbustatore di pack nuovi ecco non me ne sono reso conto quegli structure che ho che ho aperto però per l'appunto può piacere non può piacere questo però la mia critica lo so che è una cavolata e questo 2020 qui non so come funziona a livello legale e quant'altro però dato che avete fatto diciamo i box con diciamo con più il suri raro con appunto che trovi solo una rara o una super cioè diciamo trovare la foil foil è raro a sto punto se dovete lasciare la cosa 2020 lasciatemi anche il nuovo tipo di booster perché trovare le cose cioè obiettivamente secondo me le carte foil di questo box rispetto a quelle di prima edizione non hanno una sul tiger che figa non hanno un valore appunto come quelle vecchie quindi a questo punto perché non fare direttamente il non vedo le parole oh porca miseria vabbè fare i pack come quelli moderni in cui trovi almeno la foil assicurata cioè è anche vero che sono meno carte sono diverse e quant'altro questo assolutamente sì però non essendo una prima edizione essendo carte old school che ripeto non avranno mai il valore della prima edizione quelle che erano io ci avrei fatto un piccolo pensierino riguardo il bigo ammazza che bestione oh ragazzi super sfortunati noi manca una folla cioè diciamo che fra le carte vorrei trovare di più sarò onesto vorrei trovare il vabbè il blue ice sia quello thun che quello di leggende del drago bianco ma devo essere sincero vorrei trovare il bls e il no lo stregone il drago scuro occhi rossi perché diciamo sono un amante del re dyes non si capisce cioè non si è proprio capito che sono un amante del re dyes e mi piacerebbe avere lui però vabbè noi sbustiamo darci la foil la foil la foil una principessa insetto la prima ultra del box la metteremo qui mi fai altamente ca non lo dice non lo dice che poi che faceva sta cosa tutti i mostri in second mostri open controls ma vai 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 mazza forte fortissima guarda guarda questo è bls uguale 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 minchia l'uccello furtivo mi pare si chiamasse pur io ce l'ho furtivo scherzo vabbè apriamo l'ultimo di invasion of chaos ci è andato di cacca di cacca e da quello che mi ha detto un mio amico e la media è una secreta a case perché oh abbiamo una super trap jammer quando il traversario attiva una carta trap durante la battle phase negativazione e distrugge ok not bad not bad vabbè è un altro compulsory e questa distorsione con torto è un altro compulsory che bene o male si può utilizzare ok diciamo per l'invasione del caos abbiamo trovato due foil andremo con crazy oscura siamo già a 12 minuti di video sto video durerà 85 85 anni tipo mazza devo buttare tutto poi che faticaccia ok abbiamo questa appariva nell'anime attack order l'arcidemone soldato figo sì vabbè anziché keelback avevo letto kebab a me che un kebab mi dispiacerebbe devo essere sincero ah ecco un'altra carta pure che non mi farebbe schifo detto così e l'exodio appunto necros la cover card della bustina qua è tutto incastrato comunazze carte di yugi questo questo che cos'è fear in the dark ah vabbè cose cose diciamo che sono bustine più adatte a chi gioca got obiettivamente io non sono cultore di got mi piacerebbe ripeto però vedremo un po' come va il tempo libero e e quant'altro oh questo sicura si giochi in got solo che io sono troppo scarso e quindi abbiamo crisi oscura allora poi questi pack quando ero bambino non avrò aperti forse nessuno di questi almeno non mi ricordo e uh il contratto con exodia dai che lo troviamo l'exodia necros non ho aperto quasi nessuno di questi pack quelli che mi ricordo per certo capetto erano quello in cui era contenuta la metamorfosi che una volta l'avevo vista in garage non la trovo più non la trovo più e e poi il retro pack che raga io amo il retro pack perché era veramente il vintage ma con death era un pack vintage ma aveva tanta tanta roba dentro almeno da quel che mi ricordo ed era lì poi che avevo trovato il mio caro light and darkness dragon secret che diciamo non è una carta che fa schifo anche a livello sia di sia di gameplay diciamo così che economico ragazzi non so quanti pack abbia aperto tipo una pentina quasi praticamente 12 box una lì siamo quasi a 20 pack e abbiamo trovato solo due foil cioè veramente unlucky porca miseria se si ok che il nostro amico kebab qui veramente sfortunati uno dice se c'è la sfiga vedete dove li trovi questa è buona ingot di side sappiatelo ve lo dico perché lo spiato zork zork che figo zork non è una carta che ha valore però è figa oddio ho fatto tremare la camera torna a posto guarda qua che tec che tecnologia so che verso abbia fatto beh oddio non è che mi posso lamentare l'euro di sfiga dato che ho trovato come si chiama il blue eyes il dark magician secret parallel dai chronicle pack skill drain questa è buona questa è buona questa non ci dispiace skid drain apriamo qua metal riders mancano tre pack tipo e qua sto facendo la montagna ora un altro panda e una mummia la prima secret signore dei vampiri questa non ci dispiace questa è molto figa soddisfatto della secret soddisfatto soddisfatto ma io voglio il blue eyes o il red eyes non lo so se c'è un red eyes a parte lo skull dragon non mi ricordo manco che rarità fosse ma io lo vorrei tanto un'altra super ok ok e la skid drain ok ok siamo a ecco fatemi aprire l'ultima ma non credo ci sia la la foil cagnolino belli barbunci non credo ci sia la foil infatti ah drag it down vabbè ormai stavano stupido darkhold questa mi ricordo nel 2011 costava un casino da common tipo 5-6 euro quando uscì il darkhold che fece top con questa carta e appunto salire tipo a 5-6 euro come un'azza allora su 24 pack abbiamo trovato 1-2-3-4-5 foil potevo contarle anche senza indicare quindi partiamo con l'altra espansione oh dio 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 siamo a 16 minuti porca miseria e poi a montare questa questa chi è che la giocava nell'anime non mi ricordo sto a fare una montagna qua comunque devo fare almeno i complimenti per la confezione perché rispetto a quella di ghost from the past la preferisco mille 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 mila volte in più perché ci posso conservare le carte dentro perché non hanno il dannato buco che devi far vedere le bustine espansione ma che me le fai a far vedere le bustine espansione che me le fai allora questa qua quella monster mandata dal treno al cimitero anche durante il damage step versario mosso il treno distruggio va bene commento va bene devo stare una sfida in parere sulla lista va bene che devo fare va bene scherzo allora a proposito di questo se volete potete seguirmi sui questo molto forte potete seguirmi la morphing jar 2 cavolo io ho un talento che figo questa carta non la conoscevo che figa vabbè stavo dicendo un talento per fermare i periodi potete seguirmi sui miei social e se volete potete anche far parte del mio gruppo discord non è assolutamente riservato tra appunto voi utenti appunto è una piccola community che uh questo qua avevo il presentimento che dovessi trovarlo carta di joy molto figa quando batte bruchido perché si avevo iniziato a rivedermi l'anime da capo comunque riprendo il nuovo discorso scusate invasione del caos dall'altra parte potete ragionare la discord aiuto anche con le decklist potete scambiarvi pareri l'importante è che appunto non vi insultiate altrimenti vi prendo a sverle no quello no però può essere appropriate questa pure mi pare si giocasse non mi ricordo l'effetto poi me lo leggo me lo leggo dopo però non mi è nuova non mi è nuova assolutamente assolutamente no poi ripeto sono più portato per Tenguplant Edison come player sono molto sincero uh il Nobel of Extermination questa poi la comprai tipo nei paesi tipo 6 ne comprai di pochi centesimi e vabbè le prendo sia per me che per qualcuno che conosco allora Ghast non è ghast di berserk Madsward Beast ma incredibile inspection cioè secondo me fuori da pristi pack ci saranno talmente delle carte così sconosciute da poter giocare in god che magari sono anche forti forti però nessuno le calcola perché sono troppe poi vabbè ci sarà ovviamente qualcuno che lo saprà io non sono chissà che giocatore ripeto ma qua ci sta il limite le milleocchi ma è incredibile il cyber far il dastorneto super questo non ci dispiace questo almeno è giocabile anche in goat questo è in goat cioè sì anche in goat però in edison è abbastanza utilizzato visto che i tifoni ne abbiamo solo uno questo non mi dispiacerebbe averne altri anche se devo essere sincero dovrei cold wave almeno ce l'ho mint uh cappelli magici super un'altra super e perché mi scordo sempre ah ecco dovrei dare meno peso alla foillatura infatti ragazzi il consiglio che voglio dare è che a meno che non siate collezionisti e magneci su certe cose vi consiglierei di evitare di dar peso al all'affollatura della carta salvo sia una carta appunto vi piace un sacco o magari un mazzo che appunto vi piace un sacco allora se avete la disponibilità economica fatelo tranquillamente toglietevi toglietevi lo sfizio anzi non sono nessuno per dirvi di per dirvi di no mi ricordo che all'epoca si faceva anche il trick con la ooooh 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 scusate gins o quindi sarà questa la nostra seconda secret abbiamo trovato il gins o che poi dovrebbe essere una delle carte più costose del 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 set ok era un po unexpected cioè meno ti aspetti una carta più è la possibilità che esca questa si chiama tecnica del chiantillo un chiantillo in dialetto dove praticamente appunto chianti sto per dire chianti in dialetto del tipo ah non vincerò mai non vincerò mai poi vinci questa è la tecnica del del chiantillo proprio suprema e fidatevi che molte volte funziona ok passiamo all'altra espansione siamo a 3 per 12 quindi 36 bravo in matematica abbiamo trovato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 foil di cui 2 secret di cui una abbastanza grossa direi ripeto non ha il valore di quello vecchio però è pur sempre un un jinso un'altra ultra attenzione c'è un'altra ultra si è la seconda ultra della scusate i miei versi strani diciamo che se sto troppo a contatto con cose concentrato diciamo inizia la mia frase sclerotica e direi che si è visto Saint Jules ah sono sminto no ok ho fatto una montagnetta prossimo unboxing ragazzuoli se raggiungiamo 3000 iscritti vi giuro vi porto la collezione leggendaria 5d o giottino oppure magari ve la porto ve la porto prima vediamo un po' però vorrei diciamo prepissarmi un traguardo essere fedele a quello poi non lo farò so io no non è vero è importante nella vita ragazzuoli pissarsi degli obiettivi e cercare di raggiungere mamma mia anche maestro di vita sono cioè proprio che giocatore che giocatore maestro di vita unboxing profile e che volete di più che volete di più dal pomodoro mistico dal pomodoro scusa mamma mia che brutto questa ma poi a caso se vede che gli artwork sono vecchi allora da una parte devo essere sincero hanno quel fascino perché siamo giustamente legati sono legati alla nostra infanzia cioè ammazza che ti ricordi mi trasmetto quindi è un po' la nostalgia che ti dà l'effetto l'effetto bellezza oh body shop del lie minchia questa era bella broken mi ricordo metal fish ma incredibile voi ce l'avete il pesce di metallo eh io no scusate sto diventando un po' un pochettino squalido il cast delle bustine ve lo farei vedere dark zebra perché questa è nella sua fase emo perché a me ma questo è foil o no ragazzi io non capisco se sia foil o meno scusate sto diventando rimbambito troppe carte però mi sto divertendo perché da bambino mai avrei pensato di aprire così tante bustine diciamo il pro è che appunto posso Giuliano è una carta che adoro il pro è che un altro ok il pro è che posso aprire le le bustine comprarmele certo devo stare attendo ai soldi quello ovviamente però le emozioni giustamente di un'epoca sono leggermente non voglio dire che siano minori sono leggermente diverse perché ci diamo un'altra ultra attenzione il cerchio incantatore yuki doget mi vedo non è sono le gestiamo in maniera diversa le emozioni tutto qui tutto qui cioè giustamente siamo cresciuti da bambino ci dai molto più valore a che ne so trovi il drago biano fai cavolo ora dici cavolo lo stesso però con un impatto leggermente diverso diciamo che appunto il motivo per cui ho aperto il canale è per rivivere un po' quasi quelle emozioni perché io da quando ho cominciato a giocare a yuki anche da nabbo ho iniziato a caricare video random su youtube e ho sempre correlato yuki con 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 il canale un upstart copping incredibile questa è buona e quindi cerco un po' di rivivere tutto attraverso il canale youtube e infatti spero di che condividiate con me più o meno questa questa visione ed è per quello che piacerebbe creare una community un po' basata su quasi su questo su questo principio madre grizzly non abbattetela mi raccomando scusate se era un po' sottile questa ok metal riders qui spero di trovare il nostro amichetto qui dietro dubito però andiamo diciamo che come carte famose a parte lui abbiamo il jinso come carta emblematica ecco già il signore dei vampiri un po' più di nicchia se gioca in lego mamma quanto sei quanto è brutto blast lager star boy o sugar boy ok andiamo avanti apriamo pure questa con le forbici da cucina di mia madre ovviamente pulite rigorosamente pulite sangham e le fusioni queste qua non ci dispiacciono mai questo pure mi ricordavo che si giocasse da qualche parte si stavo mettendo sangham fra le foglie questa invece è una carta ottima in edison sottovalutata ma vi garantisco che è veramente veramente fortina se non potete permettervi i ddcrow e siete non lo so giocatori di drago come me allora potrebbe essere una carta molto molto interessante fate fuori il bioturbo che è una bellezza mamma mia questo è uno structure deck di kaiba che giocatore questo non lo giocava tipo tristan mi pare ok qua lo vedo un po' spesso il pack quindi può esserci che abbiamo la cicciona la carta cicciona attenzione andremo piano piano con questo pack ed è uno ed è due ed è tre e invece no però il mago dell'arco ah no ecco c'era le sorelle arpiglie ecco questa è già una carta un po' più diciamo leggermente più emblematica questo come si chiama bug il clown eccolo cazzarola è lui non lui lui è bug il clown letteralmente o è bug lui è è bug il clown che sto a dire o è bug il clown che è lui si sto un po' rimabili basta clown basta già sono io il pagliaccio oh master sorcerer mamma mia questa ce l'aveva mi ricordo mio cugino questo è invece uno structure deck di yuki queste due mi ricordo che ricordi che c'è pure i ricordi che giocatore io sto diventando veramente sclerato cioè io sto diventando molto sclerato da questo video poi uno si immagina ah vabbè ma sarà molto caldo ma invece c'è sclerotipo sono così sono un po' sono molto alla mano sono molto timido è vero dice ma che fa a fare video su youtube l'elfo scuro sempre per noi per noi emo e poi minchia mi ricordo anche gli elfi oscuri su skyrim poverini quanto vengono maltrattati questo era del del tizio che io chiamavo non lo possiamo dire il drago mamma mia fortissimo lui proprio una vera dai dammi il drago teschio nero mamma mia ci avevo creduto ho detto oddio ma è lui oh solo fusioni vai un'altra fusione rara eh eh si si ma è che è il pack delle fusioni oh ragazzi cioè tre 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 fusioni in un pack il pacco delle fusioni eh niente ragazzi secondo me non ne troviamo più foil cioè come sta sorta di presentimento perché dicevamo che la leggenda del drago bianco è quello proprio più improbabile di me lo son chiamato e questa mi mancava il drago del tuono gemello come si chiama doppia doppia capa e comunque qua è ovviamente meno probabile che escano delle delle foil se troviamo una terza secret direi che siamo andati abbastanza abbastanza bene altrimenti diciamo nell'anorm ecco abbiamo un altro mago della della fede mamma mia questi siamo noi praticamente ogni capodanno oppure ogni pranzo di cena di natale sì perché qua a sud dopo il pranzo fai pure la cena dopo il natale c'hai il coraggio è lì che si dimostra che è un vero guerriero un vero giocatore fusione clown crown crown questa me la ricordo ancora era dei gemelli paradox mi pare si chiamassero mamma mia se sbaglio qualcosa ragazzi qua succede il macello perché cade tutta la colonna tutta la colonna ah poi il motivo per cui ho fatto anche solo un un video e perché appunto l'ho messo in votazione ma l'ho detto ma sai che c'è un uomo mi levo tutto davanti e vediamo che esce fuori anche se forse è stata la scelta sbendola l'ho trovato il dragoneschio nero l'uomo fungo però abbiamo l'uomo fungo guardate basta scusate ed eccoci qui forse al momento più atteso eh 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 leggendo il drago bianco questi forse ne avrò aperti uno o nessuno in vita mia ripeto se volete altri unboxing ne ho fatti anche qualcuno in coreano e se ne volete qualcun altro in coreano fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vi ricordo sempre di lasciare il mi piace il commento spada rivelatrice abbiamo trovato la foil basta non ne troviamo più ok mi piace il commento perché mi aiutate sempre a fare nuovi contenuti e fidatevi che magari a voi non tanto appunto non vi costa nulla mentre a me e a chiunque altro abbia un canale youtube fidatevi che fa un sacco la differenza e dimostrate un sacco di supporto acquamadur che pare quasi una bestemmia se lo leggi acquamador pare quasi la bestemmione ma non lo è io preferisco sempre non bestemmiare per la mia politica etica anzi personale urabisauro infatti non si chiamava urabisauro visto rikeki scusate rikeki super not bad not bad adesso troviamo il blue ice vedete lo sentite se tocca iba qua dentro guardate eccolo eccolo blue ice lui è simile ma che c'hanno ste carte suppiegate mazza san odore non è quello di quelle vecchie per niente anzi pare proprio tipo l'inchiostro che te lo cliccano nel naso e nel cervello ma direttamente ok terra il terribile waste mystical mood ruling e ci piacciono i lupi anche floreali rimuovi trappola questo è forte forte come granello di sabbia come curipo curipo a parte scherzi gotta è forte poi spiega la caiba cattura dragoni allora questa ragazzuoli io ci tengo a dirlo non è una carta da sottovalutare soprattutto se giocare che non so il formato 2012 con chaos dragon o anche contro disaster dragon non è così malvagia se non ha tifoni o roba come episton bla 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 la tastornado e quant'altro è difficile che la riescano a togliere di di mezzo però appunto è una carta troppo troppo mirata a quel mazzo e niente io sono esiste esiste lui che sarebbe lui poi ma incredibile ed è un dinosauro questo però questo è un tuono ho gemelli fantasy oppure quello è il Thor di quella specie non lo so penso che questi racconti stiano diventando sempre peggio nemurico sandstone angelo quello di tea e che schifo scusate dammela la secret un'altra ultra cioè di ultra ne abbiamo trovate due due no tre questa non la consideriamo i due dammi la terza o dammi il drago bianco ma quello toon io preferisco quello toon ragazzolo mi sta troppo simpatico il drago toon lo vorrei come cucciolotto è un cucciolotto oh questo questo non ci dispiace anche se porca miseria questo mi serviva per un torneo che stavo giocando edison sfruttavo lui e l'ho pagato un bel po' ho pagato un pochettino niente ragazzo io ne sta entrati tragica però devo essere sincero mi sto divertendo cioè mi sono divertito ormai è finito ma mi divertirò un po' meno a pulire però mangia uomo ultimi due pack non sono compi non sono compi non sono compi questi due pack andremo così suspense e 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 niente abbiamo trovato diciamo queste tre da roba giusto sì vabbè vedremo se costeranno poco mi toglierò lo sfizio di comprarle di comprarle singole poi chissà mi comprerò i box questo lo deciderete voi quindi fatemelo sapere nei commenti se siete eventualmente interessati all'apertura del box di una di queste espansioni oh e infatti oh pot of greed belle la gioia dico la gioia perché almeno posso evitare di giocare con la mia alti allora ragazzi il box devo essere sincero non credo siano andati granché cioè abbiamo queste super abbiamo molte super e appunto come mi diceva il mio amico abbiamo due due secret del del case due super qui uguali beh non possiamo lamentarci col Jinso bisogna essere sinceri però vabbè dai dai diciamo ci accontentiamo e quindi ragazzuoli io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto se siete arrivati qui vi ricordo sempre per nesima volta di lasciare sempre un like un commento farmi sapere cosa ne pensate di iscrivervi al canale caso che siete interessati a questo tipo di contenuti se volete acquistare una delle legendary collection a prezzo scontato potete farlo sfruttando il mio codice qui sotto in descrizione o in basso a destra sdragon 5 sulla gilda store e avere appunto lo sconto del 5% detto questo vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video see you next time grazie per la pazienza grazie per la pazienza